Ma anche Renzi mi ha sfidato a duello elettorale, io gli ho detto anche domani. Sono simpatici costoro che insultano, bullizzano, sfidano e poi scappano. Ma dico, ci vediamo in cabina elettorale a ottobre. Quindi sfida anche Conte a misurare... Ma io non ho mai avuto paura di confrontarmi con nessuno, però per confrontarti devi avere un posto dove farlo, in democrazia si chiamano elezioni. E quindi io sono pronto a portare le idee di Italia che ha la Lega a confronto di Renzi, di Conte, di chiunque. Il Conte le ha mai fatto delle osservazioni in consiglio del tipo di quelle che le ha fatto ieri in diretta? Non così, però si vede che aveva voglia di sfogarsi e quindi... Il discorso però ha detto che diverse volte l'aveva avvertita di non esagerare. Non commento gli insulti altrui. Ognuno è padrone... Non erano insulti.